Per gli amanti del genere è un appuntamento immancabile, unico in Italia e tra i più longevi, arrivato alla sua 56esima edizione. Protagonista assoluto tra l'altro è l'organo, che rappresenta un elemento di unicità nella rassegna, essendo stato costruito espressamente per il concertismo. Concerti d'organo, la rassegna che si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Nuova, vedrà esibirsi esponenti di primo piano a livello mondiale. Apre l'italiana Olga Laudonia il 4 agosto, a cui seguirà Ferruccio Bartoletti l'undici, poi il 18 ci sarà il recital d'organo del francese Jean-Pierre Criveaux, a chiudere l'insolito ma suggestivo duo violoncello e organo, targato usa Angela Lee e Jonathan Dimmock. Ma agosto vedrà anche sbarcare a Fano il prestigioso Brancalioni International Music Festival, con un concerto l'8 di agosto nella splendida cornice della chiesa di San Francesco, dove stelle e musica si fonderanno insieme per una magia grazie all'associazione musicale, arte e cultura Appennino di Piobico, che porterà nella città della fortuna studenti e professori da ogni parte del mondo. Abbiamo soprattutto pianisti, violincellisti, violinisti e in particolare cantanti, cantanti d'opera. Naturalmente all'interno di queste manifestazioni che loro organizzeranno ci saranno anche i maestri stessi, i professori stessi che naturalmente si esibiranno. Non hanno nulla da invidiale alle manifestazioni a livello nazionale da Milano, anche al nostro manifestazione di Pesaro, perché sono veramente bravi. Quando ci sarà? Dunque abbiamo l'8 a Fano e il 9 a Fossombrone nella chiesa di San Filippo a Fano e nella chiesa di San Francesco a chiesa a Cielo Aperto, che è senz'altro una location stupenda per questo tipo di manifestazioni.